E' bello a tutti ragazzi Ciao a tutti Oggi siamo in compagnia di Sario E faremo questa tier list Delle bananite di Fortnite Siamo con Che cosa? La prima bananita che vediamo La prima, la classica no? Non guardare i muscoli Ok Perché l'abbiamo messa là tu? Io l'ho messo in essere Perché ormai Vabbè lasciamo perdere Lasciate il link Io ho messo in essere Perché tipo è l'esemprare Cioè la banana più importante E' bellissimo come bananita Di che pa sbattagliera? Stagione 8 capitolo 1 Bravissimo Io ce l'ho Adesso votiamo la bananita robot Robot Ok Ok Io l'ho messa Comunque questa schifo è bellissima Sì Confermi? Sì confermo E' bellissima poi l'ho messa là Zitto Comunque Vabbè Non è una delle migliori bananita Sinceramente come skin Tu vai Continuo tu Poi Ovviamente ho messo S Che è scontato Ah ok La bananita che è più recente Capito quale? Le pa sbattaglio è ora Ah Ok messo Non guardare Anche io ho messo Ovviamente In S Si merita S si merita vai E' bellissima questa bananita È un po' bella questa bananita Poi Continuo tu Cosa vuoi dire? Vabbè Vabbè A parte Perché il gelato è il mio cibo preferito Con la banana sopra Adesso mettiamo la banana romana Dai Dai Vai Cosa vogliamo dire di questa bananita? Ragazzi C'è Dai Roma Dai Ragazzi Io ce l'ho scioppato Lui non ce l'ha 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 Deve regalare Rosanieca Aveva detto Ovviamente anche questa l'ho messa in S Per ora 4 bananite in S Non succeda più Ok Quella polare Quella polare Ok Si sbloccava tramite Si sbloccava tramite le ricompense di Natale Di Natale E niente Bene che mi fa troppo impazzire sinceramente Ragazzi è bellissima Vabbè è bella Però non si merita secondo me l'S Comunque Mo vediamo quella skill Causanita Causanita Qual è? Quella lì con Fa schifo Ma appunto Però Non mi piace Perché sembra quasi come l'originale B Esatto Si merita una B Io l'ho messo in D Che sfigato Tu non c'hai bananita Che bruttissima Cioè che senso c'ha sta skill Adesso bananita al gente Ah ok Vabbè è scontata Dove l'hai messo in A In S No S Ma io no Ma so Sai quanto è bello Il passo battaglia era Del cammino 2 stagione 2 Ok E la skin che usavo sempre Rosanieca Su la Nintendo Ma non ce l'ho più Ah che sfigato In realtà ce l'ho ancora però non ce l'ho quasi più Quindi GG Vabbè Comunque Eh Vodiamo Quella cartoon Cartoon ok Quella cartoon la metto qua Chi 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 Dove gli davi Questo skin Se mettevano Inna inna Se mettevano Quello stile Tipo come cartone Se me fosse bellissimo Perché pure il cartone Ah Comunque Cosa vuoi dire di questa bananita Troppo stupenda Troppo stupenda Costava 2.800 V-Bucks Che non rispondi Chi se lo ricorda Vai Andiamo con bananita del futuro Quella nera Quella nera Ah Cosa vuoi dire di questa bananita È stupenda Bellissima Adesso Alla fine del video Rosaniec Mi mandi le live foto Già so Tutte le bananite dove saranno Ce lo so Per questo Comunque Ah Quella 2.0 Che già l'ho fatta Un anno fa Comunque Adesso votiamo Quella schelettrica Comunque È serio Ci devi tricolare Rosaniec Con la skin Della bananita Perché Rosaniec Ne ha bisogno Ingegolarci Con la romana Sei un pazzo Ma lui è povero Per Natale Per Natale Comunque Ma c'è una banana Natalizia No Non lo sapremo mai Comunque Questa cosa giungeranno Questa cosa vuole essere Quindi Sario Già sai cosa regalare Ti avrò tutto Comunque Stavo dicendo Quanto costa la skin Di 1.200 1.500 1.500 Quale skin Quale skin Di bananita Scheletrica Comunque Non sai È bellissimo Questa skin Vero Bellissima Stupenda È una delle migliori skin Di bananita Per me Comunque Manca l'ultima Lo vedete il cervello Di bananita Scheletrica Con l'asio Il cervello Di rosanica Lassù No L'intestino Crasso Crasso Come si chiama L'intestino Vabbè Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Adesso manca La leggendaria Quella Di estate Eh bravo Ah Che bella In dove vengono La tier list Di rosanica Tutti in esse Ce lo so Comunque E diventa Quelli sono in A Aspetta Fammi parlare Prima E poi vediamo Comunque Come skin Di baranita Estate È una delle mie preferite Cioè Stupenda Però l'originale Sempre l'originale È la prima volta Non ti ricorda mai Comunque Questa qua è la mia tier list Questo adesso Rosanica Oggi Rosanica Adesso Rosanica Mi manda La foto Della sua tier list Per questo Questa è la tier list Di Rosanica Ok Ha messo Bananita Originalabes in S Bananita Robot in S Bananita Cornetto in S Bananita Romano in S Agenta in S Cartoon in S Non penso che il cartoon Ti piacesse sinceramente Però vabbè Bellissimo Quella schiena In S E quella estiva in S In A Ha messo Quella di Natale Congelata E quella del futuro E poi vabbè In via Vabbè Comunque Quella tier list Di Rosanica Scrivete come Di quale era la migliore Senzivamente Forse la mia È la migliore Forse Ok Il video è concluso qui Iscrivetevi Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Uzz